Buongiorno, buonasera e buonanotte. Finalmente dopo un lungo inseguimento sono riuscito a portare su questa sedia, questa poltrona a fianco a me, un invalido. Tu non devi parlare ancora perché non sei inquadrato. Abbiamo qua un mito della battaglia in Italia, non solo un prodotto della nostra terra di cui siamo molto orgogliosi e abbiamo approfittato come sempre quando c'è un concertone di Gigi D'Alessio, provano qui vicino, Alfredo in genere viene a passare un po' di tempo da noi e questa volta abbiamo incastrato con l'aiuto della PIRL, suo endorse, siamo riusciti finalmente a organizzare questa cosa. Logicamente presentare Alfredo mi viene un po' complicato, non perché non ci sia niente da dire, ma veramente non saprei come introdurre, se non ricordando perché lo facciamo sempre e come ha detto anche Christian Meyer nel suo incontro di una settimana fa, la scuola napoletana è una scuola che ha fatto scuola, come si può dire, una scuola che ha fatto scuola, una scuola che ha fatto scuola. Sono usciti tantissimi batteristi dalla nostra città anche per merito di due grandi insegnanti che c'erano a Napoli, che erano Valtescotti e Antonio Colino. Ora logicamente c'erano anche due partiti se vogliamo, il partito di Valtescotti e il partito di Alfredo Colino, ma c'è stato un nome che ha messo tutti quanti d'accordo ed è logicamente il figlio di Antonio che è qui affianco a me nella sua meraviglia. Eccolo qua, Alfredo Colino. È vero, è vero, lo tocco, lo tocco, datemi un pizzicotto. Il d'accordo, tutti d'accordo? Quasi tutti d'accordo. È peggio tutti d'accordo, ci vuole un po' di... Ma all'epoca, diciamo, da Antonio ci stavano tanti ragazzi che venivano, ci stavano tanti batteristi che studiavano con lui. Ricordiamone qualcuno, non so, te ricordi qualcuno? No, non mi chiedere niente. Tu stavi chiuso a studiare. Ormai ho capito l'arterosclerosi che galoppa, eh. A me lo dici, a me lo dici. No, non mi ricordo sinceramente, sono passati 50 anni. Comunque Alfredo è qui, diciamo, lui ha fatto, ha studiato, io pensavo che poi avesse, diciamo, fatti chissà che studi con quali insegnanti pazzeschi per raggiungere il livello che ha raggiunto, ma lui ha studiato soltanto col padre, poi ha iniziato a lavorare quasi subito, diciamo. Studiato, facevo finta di studiare, mi picchiava per studiare. No, no, mi aspettavo fuori, lui usciva, uscivo pure io. Come tutti i ragazzi. Io dico sempre che bisogna studiare, sai c'è un po' un falso concetto a volte, bisogna studiare. Insieme allo studio devi capire, perché se tu studi tanto e non capisci, quindi è meglio forse, cioè lo studio va fatto, deve essere efficace, quindi in realtà bisogna studiare, come diceva, c'è un detto, non è meglio studiare a casa e da bambini, poi dopo devi suonare. Quindi diciamo che non è che avevo tutta questa voglia, ero un ragazzino come quelli di oggi, che sono distratte e tutto. Poi comunque lui mi ha seguito bene, ho studiato quello che è servito, ma il grosso l'ho capito migliorandomi, lavorando. Anche perché hai iniziato a lavorare quasi subito. Eh, a 14-15 anni. Cioè a 14-15 anni già lavorato. Sì, quindi quello ti fa capire, pichi le mazzate, capisci, vai a un passo dalla disfatta e da solo capisci e dici, oh madonna, c'è mancato poco. È lì che incominci a mettere in campo lo studio, che è importante, ma soprattutto capisci come gestire anche il talento, perché il talento può essere anche un'arma a doppio taglio, è come avere un... Si studia di meno quando c'è il talento. Sì, perché ti affidi al talento, ma il talento non basta, è come avere una macchina con 600 cavalli, poi lo metti la prima e poi contro il muro, se non lo sai controllare. Quindi ci sono tanti particolari, quindi sarebbe... E quindi a 15 anni hai iniziato a lavorare e che cosa facevi, per esempio? A 15 anni. Il pizzaiolo. Il pizzaiolo, esatto. Però a ritmo, logicamente. No, vabbè, è iniziato, sai, paradossalmente, Io penso, adesso sono tanti anni che sono passati, che forse una volta... Oggi sembra che ci siano tante possibilità, tante situazioni, perché in realtà c'è un movimento molto più ampio, proprio la vita che è pavveolo. Però una volta, in realtà, se avevi un po' di talento, le occasioni ti capitavano, ed erano occasioni più semplici, perché oggi, sai, andare a suonare ci vuole già un'organizzazione. Una volta, mio padre, per esempio, questa è una cosa che fa anche sorridere, mio padre mi portava, lui suonava nei locali, al number one, famoso number one, tu te lo ricordi, chi è giovane non se lo ricorda. Quindi io c'avevo 6-7 anni, e con una zassa, cioè voglio dire, quasi d'arresto, mi portava con lui nei night, e mi faceva suonare dopo... Erano molto fumosi all'epoca. Molto fumosi, ma c'erano tante altre cose. E io stavo tutta la sera con la testa così. Pensa, pensa, c'è questa cosa sembra una cosa, ma pensa l'intuito, no? Che è una cosa, se vai a vedere, impossibile, perché infatti i suoi amici musicisti delle benze, dicono, ma tu, ma ti sembra possibile, devi portare... Non ti preoccupare, quello si farà, si farà. Io stavo tutta la sera così, poi a luna mi faceva suonare, capito? Ah sì, eh? Ero nero tutta la sera così, rosso, rosso, perché ovviamente ero 7 anni, capito? Quindi no, per dire... Però una volta, poi, io ho cominciato subito, ho fatto, che ne so, anche le feste di piazza, che è un campo dove le feste di piazza, che non so come quelle di oggi che fanno tutti gli artisti d'Italia, che sono organizzate, le feste di piazza di una volta erano un altro concetto, arrivavano 30 cantanti... Con un batterista. Con un batterista, con un'orchestra, dovevi suonare, arrivavano le partiture, spesso macchiate dalla pioggia, e lì su un campo, o ci davi o... era finito, insomma, quindi era un altro concetto. Però quello serve, mi è servito molto, era quello di quell'epoca. Adesso ci saranno altri sistemi, ma comunque bisogna praticare. Ma i matrimoni, queste cose qua, i sistemi allevoli fatti o... Come no, come no. Ho fatto anche le cose sulle navi. Io ho cominciato talmente presto che è giunto il momento di smettere. Ah sì, eh? Sì. Vuoi dare questo annuncio? Sì, sì, ma l'annuncio arriverà abbastanza presto. Ah sì, eh? Sì, sì. Vabbè, quindi diciamo, logicamente noi oggi in un'oretta e mezzo vorremmo veramente sentirlo parlare perché in questi due giorni proprio veramente ti si è aperto come non mai ci sarebbero cose assurde da raccontare, ma logicamente ti vogliamo anche sentir suonare perché... Purtroppo sì. Purtroppo si deve fare e quindi prima di andare avanti io ti farei fare proprio un pezzo giusto per... Ma così? Proprio così, proprio al volo proprio. Io intanto saluto anche perché noi siamo su... Siamo su... Su un tuo grande canale, giusto? Sì, 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 Televaticano. Ah! C'è normale. E quindi siamo benedetti. Siamo benedetti. Però si teneva a salutare i volenterosi che sono arrivati qui in presenza. Certo. Sono tanti, vedo un sacco di persone, un sacco di amici. Poi parleremo anche casomai delle persone. Un sacco di concorrenti. E quello è bello perché si sta... Ti vogliono tutti bene, guarda. Sì, sì. Perché ti vogliono tutti bene. Quindi intanto vi saluto che voi che siete qua e gli altri li saluto. Gli altri, sì. Logicamente, come sempre, diciamo, ci stanno scrivendo e ci sono praticamente tutti i batteristi d'Italia che ti omaggiano con il loro ascolto e la visione di questa cosa. Io mi impressiono sempre perché, sai, noi siamo abitati a stare abbastanza dietro, sempre. No, però... Vabbè, in questo momento proprio sei... No, in questo momento mi sento un po' Costanzo. Sono da Costanzo Show. Provero Costanzo... Tu avevi detto un altro nome, però. Hai detto Marzullo, perché... Vabbè, tu sei proprio Marzullo. Io sono proprio Marzullo. ti metto in posto a te con le domande. Va bene. Intanto posso salutare degli amici che sono venuti. Ma saluta gli amici. Subito, così rompiamo il ghiaccio. C'è il grande maestro Pennino. Ah, maestro Pennino. Dopo, caso mai, lo facciamo entrare, gli facciamo raccontare un paio di cose. Ma poi c'è il bassista che sta suonando con me è bravissimo. Qualche volta? No, oggi è bravissimo. Oggi è bravissimo. Io faccio la classifica. È un grande bassista. Mi sopporta Roberto D'Aquino. E poi c'è Max D'Ambra. Che noi adoriamo. Che tra l'altro alcuni dei pezzi che sentitele stasera sono suoi. Quindi non è colpa mia. Non ci far bloccare Facebook, mi raccomando, Max. Io sono emozionato. Con i concordenti e i ragazzi sono abituato. Perché mi gioco la palla. Con loro mi sento emozionato. Che poi è il gruppo che sta suonando con te e con D'Alessio. Cioè, stanno usando queste cose. Va bene, dai. Fai un pezzettino. Io vado, eh. Vediamo. Vediamo se va. Vediamo se va. Io vado. Vediamo se va. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. che tu fai. a tutti. musicale. la roba. e a tutti. che succede. so dai guadagli. a tutti. quindi, lo stesso, c'è qualche disco che ti ha, non dico che ti piace di più perché non si può dire, ma che ti ha particolarmente emozionato suonare o che ricordi che ho piaciuto per esempio per la gente che c'era o per la situazione tua personale di quel periodo certo ce ne sono tanti talmente tanti che così alla sprovvista, però sai ci sono due o tre dischi di Mina, io l'avrò fatto in Aventino due o tre, c'è quell'archimia quella cosa, quel mix ti ho studiato poche ne so, per esempio un disco che per stare fuori dalla misca, un disco che può sembrare che non è gratificante come il massimo dell'espressione batteria, è un disco che invece ricordo sempre e negli anni ho sempre valorizzato di più, è stata la voce del padrone di Battiato, io l'ho visto dal vivo, grazie a Bebiscito l'ho Battiato perché quel disco lì intanto è diventato un disco che adesso lo riseguono tutti mi rimane sempre in mente perché quello è stato realizzato in modo particolare era l'epoca delle prime lean i primi strumenti elettronici e tutto quindi questo disco qua fu fatto volendo fare la lean vera praticamente infatti quello è tutto suonato con i suoni stoppati lo fece in un gabbiotto in uno studio studio Radius di Radius il famoso guitarista che purtroppo è scomparsa da poco ecco quello è un disco che batteristicamente è ovvio che non mi gratifica a livello tecnico musicale però nel tempo ho percepito che insomma è stata fatta una cosa che ha un senso e per l'epoca adesso non l'immaginiamo adesso vabbè certo col suono che oggi fanno campionato quindi insomma quello è un disco per esempio di cose poi ce ne sono tanti altri non faccio nomi perché poi se ne faccio uno e ne devo fare un altro è certo ma questo fatto dei suoni campionati mi ha fatto venire in mente con il discorso che facevamo un altro giorno sul fatto di mettere a posto diciamo le dovete sapere perché casomai tanti non lo sanno che ormai tantissimi dischi si fanno così cioè il produttore contatta Alfredo gli manda una traccia che ne so con una parte di quello che sarà il pezzo la linea di voce eccetera eccetera Alfredo nel suo studio registra la batteria la manda e poi su quello costruiscono molto del tuo lavoro oggi è questo una volta non era così spesso è così perché sai oggi si recupera anche tempo ovviamente questa cosa richiede una difficoltà cioè è ovvio che un batterista che ha esperienza perché di solito da solo poi puoi anche fare strafare o fare delle cose che mandano in un'altra direzione è chiaro che l'esperienza ti insegna che sei da solo ma in realtà non sei da solo ti lasci trasportare e seguire dalle indicazioni che sono arrivato del provino delle cose quindi non è tanto sembra più facile perché tu fai da solo però poi dopo gli altri ascolteranno a bocce ferme quindi è molto più difficile a volte dare convincere uno che poi si arriva a casa se lo sente e ti conta i peli o la dimensione oppure tu hai preso una dimensione che non è quella quindi e quanto tempo ci vuole a fare un disco perché devi raccontare quella cosa che mi hai raccontato ieri troppo bene di quelli che hanno preso l'albergo per una settimana eh sì no io poi sai ognuno i tempi nella musica non esistono ognuno sa i suoi tempi è ovvio che ognuno ha i suoi tempi quindi quello non è secondo me una classifica di bravura perché se uno ha bisogno di tempo però fa una cosa giusta va bene è chiaro non può avere una settimana una volta si facevano un disco le basi le facevano una settimana dieci giorni oggi lo devi fare in un giorno i dischi proprio se qualcuno vuole perdere tempo due giorni tre insomma una volta ti chiama questo qua dalla Svizzera come mi chiama questo produttore no tedesco di un cantante un uomo molto famoso mi ha sentito i dischi mi chiama e dice devo fare il disco c'è il lanciatore è già fatto l'orchestra viene l'anciatore con le partiture e tutto e mi prenoto una settimana di studio per fare il tipo mi dice ti posso mandare i pezzi no non me li mandare vieni da qua guarda che quanti pezzi sono dieci una settimana è troppo lui ho detto no voglio stare tranquillo mi manda tutto quello che devi mandare arrivano chiaramente io ho tutto settato nello studio arriva questo arranciatore con le partiture già il disco c'era l'orchestra già perfetto allora faccio sentire i suoni arrivano a mezzo giorno faccio sentire i suoni bellissimi andiamo a mangiare torniamo cominciamo alle due faccio il primo pezzo insomma fa la breve alle otto mancava un pezzo ce lo siamo conservati per disperazioni il giorno dopo quindi il giorno dopo abbiamo fatto il pezzo abbiamo pranzato e sono partito vabbè terribile no ma dai oggi c'è solo la batteria otto giorni che devi fare è chiaro poi dipende sempre dall'ambito certo da quello che ti chiedono però sai oggi i tempi si sono accorciati vabbè difficoltà se vogliamo parlare di difficoltà allora c'è un'altra storiella che è bellissima diciamo che abbiamo ricordato perché incredibilmente non mi ricordo perché quel giorno ci sentimmo e Alfredo era diciamo in ambascia in uno stato persone che parlano bene era in mezzo alla nebbia esatto era proprio a metà del guado perché a un certo punto alle 6 del pomeriggio ero in studio a casa tua e ti chiama un artista Fossati che era Ivano Fossati con cui sono il figlio tra l'altro bravo e che fa questi pezzi assurdi cioè Ivano Fossati fa delle cose bellissime molto complicate ti chiama alle 18 facciamo finta aspetta aspetta non lo faccio mettere pronto io guardo il messaggio perché stavo in studio e non avevo risposto chiamo pronto siamo disperati devi venire a Milano doveva fare la trasmissione di Fazio che tra l'altro lui si è ritirato quella era l'ultima cosa live che ha fatto l'ultima serata diceva che si ritirava e tutto quindi c'erano faceva 10 pezzi su poi c'era Zucchero e faceva un pezzo con lui la mannoia e tutto praticamente la trasmissione era alle 9 e un quarto una roba del genere mi chiama disperato dicendo guarda ci devi salvare perché gli altri che potevo chiamare uno non mi ha risposto erano due non mi hanno risposto e io dico ma quanti pezzi dobbiamo fare 15 15 pezzi insomma alla fine dico ma guardami devi venire perché non sappiamo come fare alla fine vabbè ok esco dallo studio mi stavo andando a casa ore 18 e 15 20 avrei parlato adesso alla studio c'era una nebbia quindi bisogna andare a Milano allora lì che faccio esco dallo e dico no non ce la toglierò mai allora io dico guarda c'è una nebbia della Madonna mi ha trovato a casa mentre a me non so quando arrivo mi hanno mandato l'autista della Rai allora mi vado a casa mi cambio intanto mi manda i pezzi di MP3 in macchina mi sono segnato i miei disegnini quelli strani mi sono segnato e sono arrivato a Milano sono arrivato a Milano alle 9 meno 5 meno 10 la scena più bella è stata che già c'era il pubblico che stava entrando la macchina entra nel cortile secondo me chiamavano dove siete arrivate dove siete arriviamo io tutto sudato in macchina a scrivere mi ero mezzo coglionito così esco dalla macchina c'era Fazio Fossati tutto il regista maestro grazie finalmente è arrivato allora c'era la coda e uno ha fatto uno in coda ha fatto un altro ha fatto ma che è questo e io l'ho fatto ma perché hanno detto caspita uno che viene ricevuto così sarà il presidente mondiale della RAI non hai capito e quindi questa è stata poi sono arrivato mi sono provato quindi hanno avuto il tempo di pensare intanto avevo chiamato giratemi la batteria perché ah perché cazzo mai te la facevano trovare voi stavano lì già da tre giorni a fare le prove perché comunque è una cosa e poi sono scaraventato là quindi tu in un'ora e mezzo hai preparato un concerto in diretta RAI queste cose perché poi purtroppo se tu poi dici ok non è che dici ok e suoni col cartello a fianco della batteria mi hanno chiamato mi hanno chiamato alle otto sono venuto e ti proteggi capito cioè una volta che dici sì lo fai una volta che dici lo fai chiaramente guarda ero è certo ero comunque tu me lo dicessi io quella sera ho visto questa cosa non mi ricordo come mai ci siamo sentiti guarda stasera questa cosa sto facendo una cosa studa comunque è finita così e vi invito perché da qualche parte ci sarà questa cosa l'hanno cancellata praticamente da qualche parte ci sarà questa puntata da Fazzo che era l'addio di Ivano Fossati alla musica andate a sentire i pezzi la complicazione di questi pezzi io dico ma come è possibile che tu sei riuscito a fare questa cosa come? culo culo ecco qua no però questo ha un senso questo è per dire per chi affronta questo e fa questo mestiere chi lo fa da anni lo sa chi si accinge a fare questo mestiere la bellezza è che ti arrivano sempre delle sue pezze può succedere di tutto dov'è la differenza? che te quando devi menare e devi giocarti la carta te la devi giocare questa è una delle cose più importanti lo dico lo dico ai giovani perché? perché oggi i giovani i giovani hanno una cosa la qualità è molto più alta c'è molto talento perché poi bisogna dire la verità però il problema è che a volte sono abituato ad avere tutto a posto la batteria lo studio le condizioni tutto ok invece la musica a volte non ti dà le condizioni ok anche ai tuoi livelli e a volte ti capita sta cosa tu lì o ti giochi la carta non te la giochi quindi l'imprevedibile la condizione quindi bisogna nella preparazione è tutto poi ci vuole quell'attimo di follia sempre ci vuole quella porta aperta la devi avere sempre perché devi essere anche un po' folli accettare questa cosa è da folli diciamo anche perché poi tutti i giochi poi c'è il seguito che non lo voglio dire tu lo sai io lo so il seguito lo sai diciamo è la cosa che si può dire che poi dopo si è andato a favore poi mi chiestero siccome erano in difetto tutti quanti mi hanno detto maestro quando le dobbiamo in camerino è venuto subito il produttore quanto dobbiamo senza dire io non avevo pensato un cazzo spara una cifra no ho sparato una cifra ma mi è scivolata la cifra forse è l'istinto perché io che ho avuto il tempo quante le dobbiamo ho detto come la dico la cifra 4.000 quello ha fatto per me mi mandi la fattura ma secondo me perché insomma mi è scivolata ma la cosa più bella tornando con l'autista a casa mia moglie mi chiama e mi dice è bellissima la cosa ma come è andata ma poi quanto gli hai chiesto mi sa che fosse un po' esagerata mi ero pentita un po' perché effettivamente e lei mi fa hai fatto benissimo perché ti sei abitato la responsabilità e chi la faceva questa cosa e poi ho fatto le dieci date dopo quando ti hai chiamato mi hai chiamato ma la cifra delle date e lei ha detto no ci hai fatto sconto sono 1.500 euro ci hai fatto sconto grande Alfredo andatevelo a vedere questa cosa divertiamoci un po' queste sono cose divertenti sicuramente e invece poi succedono le tragedie per esempio ti racconti una cosa brutta brutta quando me ne vado dai concerti pure io sono conosciuto anche per questo ah si? si due o tre volte quando dico faccio che è una cosa brutta devo dire la verità non lo fate però io sono matto sono più forte di me se non sto male due o tre volte è capitato è capitato anche con un però non la voglio raccontare con un grandissimo artista ma non la voglio raccontare poi abbiamo continuato ma ci sta qualche qualche artista con cui perché lui praticamente penso che qualsiasi nome uno possa non solo fare ma pensare dei grandi cantanti o situazioni italiane hai suonato ovviamente con tutti ma c'è stato qualcuno con cui avresti voluto suonare che non ti è capitato italiani? italiani stranieri qualsiasi cosa uno è la maggioranza la maggioranza la maggioranza un nome italiano che non ti è capitato perché non vi siete trovati o stai facendo qualche altra cosa qualche situazione bella che non è stato beh ma sicuramente ce n'è qua per esempio con Baglioni non ho mai suonato ecco anche per mancanza di che è bello il concerto di Baglioni da suonare sì sì è bello ma non mi sono mai non posso raccontare i dettagli vabbè sono sicuramente tanti esteri tutti è chiaro tutti hanno i sogni ognuno ce l'ha però ricordatevi sempre che i sogni allora quando tu arrivi a cercare di fare il tuo mestiere il meglio possibile certe cose sembrano chiusa in partenza ma poi non è tanto vero così perché poi dopo ti possono anche capitare e puoi anche fare quindi state sempre sul pezzo bisogna stare sempre sul pezzo perché prima o poi allora quando tu ti metti questo è un mestiere che è come un libro aperto c'è chi ti ascolta perché se no chi ti chiama quindi mi sono sempre posto il problema uno che ascolta ti può anche chiamare può essere di qualsiasi quindi bisogna essere sempre speranzosi di poter migliorarsi e fare delle cose che alcuni mi si sono avverati altri non si avvereranno mai però è normale bisogna convivere con questa cosa senti Alfredo ma se io ora ti chiedessi perché lo sai che te lo chiedevo non quella cosa là che poi mi metti a proposito ti ricordi io sono venuto qui tutto per abbracciarti per vedere questa bella gente esatto devo parlare di quel progetto lì lo sai assolutamente ci sarà tempo anche se il tempo vola qua quindi io ora prima che tu ci siamo quasi lo stomaco che inizia quindi diciamo che vorrei intanto che tu ci lasciassi un esercizio se hai pensato a questa cosa un esercizio non troppo complicato Alfredo per favore perché io io ti studio e quindi vorrei fare quando vorrei avere qualche cosa da studiare una cosa semplice è una parola no io volevo approfitto volevo fare riferimento per le persone che stanno a casa che sanno di cosa parlo quelli che mi seguono poi quelli che suonano non so prendere che ne so quel discorso che facevo prima di un esercizio di un metodo che casomai uno ha aperto ha fatto che cazzo ancora queste cose e ha chiuso e farlo dove cosa può diventare più che dare un esercizio risolutore che non esiste ok quindi prendere un esercizio di un metodo per esempio a centro del mouse lo conosceranno i batteristi certo casomai l'hanno chiuso l'hanno aperto e l'hanno chiuso e io ora gli faccio vedere cosa ti può diventare per la mia c'è il microfono là se vuoi dire qualche cosa mentre se lo vuoi spiegare allora faccio questo poi a chi ora dobbiamo smettere non molto perché il tempo vola poi devi fare un altro pezzo dopo dopo torni qua parliamo un altro po' poi parliamo un altro pezzo ragazzi che bello vi stai divertendo o no? eccomi allora ecco prendiamo per esempio a centro del mouse chi non l'ha mai visto si documenta così per sfizio allora quello è un è un metodo dove la funzione principale è un metodo molto vecchio è far capire che un fraseggio cambiando gli sticking quello che dice lo sticking delle mani ti cambia il senso del fraseggio che fai in realtà ogni pagina è lo stesso fraseggio con 12-13 sticking diversi moltiplicato per varie fraseggi ok allora io adesso vi faccio sentire uno di questi fraseggi è uno iniziale che è più semplice è che lo sviluppo e la personalizzazione a che cosa come può essere batteristico cioè pratico ok adesso vi faccio l'esercizio base sul rullante perché quello è solo sul rullante questa frase qua viene fatta in vari sticking adesso io non li faccio faccio solo questo adesso io faccio due o tre personalizzazioni una semplice a suonare dei tom e poi lo faccio diventare un groove ok questa è la personalizzazione semplice dove deve arrivare questa cosa qua adesso io lo suonerò come se fosse com'è com'è a suonare dei tom prende già un'altra forma ecco questo immaginate di fare tutte le applicazioni con questo sistema quindi quando uno suona normale un pezzo ammettiamo che stiamo suonando un groove diverso io posso prendere alcune parti di questo groove e applicarlo o come variazione o come fill a suonare dei tom diciamo che i primi 30 secondi li posso fare poi il resto non lo so comunque studiamo ragazzi studiamo e a questo punto visto che tu non ci penserai ma già è passato un'ora e un quarto come vedi qua il tempo buono uno sai come faccio con maestro Pennino comincio la sera e finisco la mattina a colazione vabbè e quindi vogliamo parlare di questo tuo progetto che c'hai in questo momento in atto che stai facendo con i tuoi colleghi è una cosa bellissima si parlava anche Cristiano l'altro giorno praticamente entro prima della fine dell'anno massimo i primi di giornale uscirà un videodisco con i duetti con una parte dei migliori battisti italiani quindi sono tutti i duetti pezzi scritti apposta per fare questi duetti Italian drummer Italian drummer si chiama il progetto bellissimo e ci sono non faccio nomi perché tanti sono quelli di fare tutti è certo quindi presto saprete cosa ci sarà ma quelli che non inviti poi non si dispiace quelli che non inviti mi vengono a menare direttamente poi sai ce ne sono talmente tanti chiaramente ho fatto delle scelte iniziali per farlo se no devi fare poi dopo vedremo se il progetto funziona poi potrà essere un seguito bellissimo tra l'altro a me questa cosa dell'amicizia delle collaborazioni tra i batteristi a me piace tantissimo una cosa volevo dire ho scoperto questo mi gratifica molto quando ho contattato i batteristi che volevo coinvolgere in questo progetto ed è una cosa che mi ha sorpreso devo dire la verità ho scoperto che intanto ho una massima disponibilità e ho scoperto una stima enorme che hanno nei miei confronti che chiaramente è reciproca perché per me chi suona è sacro però mi ha sorpreso un po' tra batteristi e tra colleghi c'è sempre competitività giustamente sana però ho trovato una disponibilità umana e musicale e questo vuol dire che forse in questi anni insomma qualcosa hanno capito un po' come sono perché ho sempre avuto un po' un rapporto contraddittorio con l'esterno quindi questa cosa mi ha gratificato sono mai arrivato devo dire la verità è la seconda volta che lo dici no no perché comunque si sa nell'ambiente però questa è una cosa che mi ha sorpreso molto e ne sono orgoglioso insomma beh infatti è normale che sia così senti ma prima di parlare dell'ultima cosa che ci avvicina anche all'ultimo pezzo che devi fare mi piaceva molto quella cosa che mi raccontavi ieri sul fatto degli editing no? cioè che oggi moltissime cose alla fine si somigliano e si perde un po' il carattere del batterista perché che cosa succede? quando tu mandi dei pezzi oppure si fanno dei pezzi in studio questi vengono in qualche modo manipolati dai produttori dalle cose eccetera eccetera spiegami un po' questa cosa che succede beh allora io penso che ci sia una cosa molto importante che voglio dire cioè intanto non bisogna cercare di raggiungere la perfezione cioè la musica non è perfetta uno diventa forte quando l'imperfezione diventa musicale questa è la storia della musica che lo insegna cioè chiaramente noi adesso viviamo perché se tu voglio dire facciamo un esempio tu chiami un produttore chiami un batterista i soliti noti bravi stranieri parliamo degli strani chiami uno cioè voglio dire che ha fatto 8000 dischi e tu gli fai fare un pezzo lo senti e dici bellissimo adesso e a prescindere da quello fanno l'editing perché vogliono raggiungere se sta all'85 il 100% secondo me è peggio e togli un aspetto della musica che è fondamentale l'imperfezione perché l'imperfezione quelli bravi non te la fanno sentire però fa la differenza perché dà quel senso come ti posso dire ci metti il tuo corpo la tua mente dentro quindi per me è sbagliato a prescindere fare editing a prescindere è la cosa più sbagliata del mondo se no lo fai elettronico e sei a posto così cioè perché quello toglie secondo me la caratteristica di chi ha suonato perché se tu io ho suonato quasi perfetto e devi lasciarlo così perché tu mi rendi intanto mi fai facciamo una cosa che non possiamo rappresentare perché poi dopo tu ammettiamo che fai il disco perfetto lo migliori al 100% con l'editing e dal vivo cosa rappresenti l'imperfezione quindi per me è sbagliato quindi però è anche vero che oggi si vive questo momento siamo in mano e tutto viene fatto con i computer se pensate che suoniamo il 99% col click sempre anche quando non ce n'è bisogno però c'è una cosa che bisogna sapere improvvisamente può cambiare quindi le basi principali di come si fa musica bisogna saperle e bisogna coltivarle e bisogna tenerle lì perché prima o poi qualcosa ti servirà immaginate che tra una settimana non si usa più il click ai computer si va in difficoltà o no quindi questo è il senso proprio di come si fa la musica ma non riguarda solo la batteria chiaramente la batteria è incriminata perché la batteria rappresenta la perfezione ritmica che poi non deve essere così quindi alla fine è sempre lo stesso ragionamento l'espressione se tu prendi cad e lo metti al centro non senti più quella poi dopo detto questo ci sono anche dei dischi fatti tutti elettronici che sono interessanti e bellissimi cioè una cosa non escludo l'altra però qual è quello che io penso è che la base l'esistenza di quello che serve è la base che serve per essere un musicista per tutta la vita è quell'altra poi io ho passato i trigger i microfoni dentro i tom la cassa elettronica con il rullante vero poi si fa tutto facciamo anche con il maestro Pennino facciamo dei dischi con un linguaggio intersecato tra l'elettronico e il vero e vediamo bene che appena metti una cosa vera adeguata a quello che stai suonando e il pezzo ha una svolta quindi vuol dire che l'uomo alla fine deve vincere sempre poi si può fare un discuto elettronico va bene tutto ma chi fa questo mestiere perché se no dopo rischi che tu passato il momento e dopo rimani lì questa è una cosa fondamentale quindi comunque anche questo fatto dell'intelligenza artificiale non ci fregerà perché non potrà noi non la vedremo stanno andando avanti molto velocemente però tu mi hai raccontato per esempio a proposito di questa cosa che ti è piaciuto ad esempio moltissimo fare ultimamente questo tour o questi concerti non mi ricordo con Cocciante perché lì ha avuto l'anno scorso lui è ritornato dopo vent'anni a fare un tour ecco per esempio io ho un po' smesso di fare i tour cerco di farne meno possibile dico la verità perché non me la sento più per tanti motivi però pensate questo tour il concetto è due ore e quaranta senza click e sequenze io l'ho accettato per questo infatti l'artista è un artista importante ed è molto difficile suonarci insieme perché poi mi sono in pianoforte e campo io sono un po' mi è servito molto perché mi ha dato una ripresa mentale emotiva emotiva quindi senza un click e una sequenza sembrava di essere uscito di galera hai capito cioè vai sciolto dobbiamo guizzare devo dire guarda è stata una perché immaginate adesso hanno vent'anni venticinque che tu guarda il video stai sempre con il click sempre sempre ma può succedere pure qualcosa però eh ma ne succedono se uno a un certo punto va d'assorto ma io non vedo l'ora che una sera e si è fermato tutto dobbiamo suonare dei fattori di concetto guarda che alcuni concetti sei sprovvisto non suoni cioè per esempio se questa storia di Gigi a un certo punto succede una cosa ma non voglio fare un cielo del malamurio ci sono quelli che l'hanno fatta con me secondo me se succedeva una cosa non si poteva suonare cioè se si ferma la cosa no ma nel senso se succede due giorni prima se lo sai due giorni prima ti organizzi ma immaginate che due ore prima zomperano tutti i computer che ci sono maestro che succede no non c'è più sei scappato in albergo o sei andato a preparare sei andato a prepararsi per questo e venire se improvvisamente vanno a via tutti i computer del mondo e qui guarda non rimango intanto eh infatti ha detto ma lo traduco perché mi sento il microfono ha detto che se si spengono i click non rimangono molte persone a suonare questi concetti che abbiamo fatto che comunque c'erano ospiti e tutto ognuno porta le sue sequenze noi abbiamo sequenze e tutta cosa tu immagina due ore prima è finita cioè che fai perché non sei neanche organizzato però si deve suonare ho capito ma devi il paradosso è che oggi ti devi organizzare per suonare perché noi che dice vai noi abbiamo cinque medley con sei sette pezzi che ognuno ha una velocità diversa e collegamento è un collegamento violento a volte no e tu non riesci a se non ti prepari non riesci a fare e poi sta tutto addosso a te o no se vogliamo quello è il guaio però dico tante ore di concerto tu non puoi proprio mollare è una condanna ogni tanto ci guardavamo io e Adriano anche Roberto era a fianco a me Roberto ogni tanto lo tieni vicino a Robertino mi guardava mi rincuorava perché mi vedeva un po' voglio dire in queste situazioni bisogna avere anche un certo atteggiamento diciamo fisico e di preparazione eravamo tutti dopo tre ore sul palco aspetta tre ore sul palco quando fai queste cose e qua vuol dire che stai dalle tre perché tu quando fai queste cose qua arrivano tutti a provare nello stesso giorno fanno le prove ognuno ha le sue esigenze che è bello fresco si fa la sua oretta di prova fresco ti rompe i coglioni tutto il pomeriggio e te tu suoni e suoni noi siamo scesi primo concetto siamo saliti alle tre e mezzo alle quattro ha piovuto un'ora poi siamo scesi alle otte e venti e siamo risaliti alle otte e quaranta ci sono i testimoni qua cioè che hai fatto sei sette ore a menare poi comunque hai l'ansia da prestazione sai che vuoi fare bene e se uno vuole fare come negli anni 70 se uno c'è la fella d'oro esatto perché poi la fella d'oro e la guata è lì capito? ti aspetta alla pronta per avere la tacca e quindi non si può fare come negli anni 70 dove uno le situazioni drogherecce che si fa non possono esistere perché anche fisicamente bisogna la differenza che io la differenza che io ho ripristinato facendo questo tour di cocciante è proprio quella che quella cosa là alla distanza tu quando suoni da sera sai che non può succedere niente cioè puoi solo sbagliare tu o un altro ma non può succedere l'inconveniente che ti butta in paranoia perché lì devi suonare è tutto organizzato e devi suonare quella è una bella libertà è certo devi rinunciare a delle cose il problema oggi è la rinuncia dal vivo questo ritornando al discorso della perfezione se tu fai un disco tutto l'errore a volte è che vuole fare il disco dal vivo invece a volte dovresti fare un passo indietro e fare il pezzo quasi simile al disco ma con un concetto live che è diverso però non c'è più quasi più sta cosa qua certo senti ma visto ci stiamo avvicinando alla fine l'altra cosa parlando di duetti ora tu farei questi duetti con i batteristi italiani però diciamo il web ha esultato per queste cose che è pubblicato con dei grandi artisti stranieri no? che sono stati un paio un paio poi c'erano altri due o tre pronti che devo decidere quando usciranno mi piacerebbe che dicessi una cosa su ognuno dei due uno era con Simon Phillips che è stato qua ospite da noi per i fortunati che hanno potuto assistere beh l'hai avuti tutti e due è un grande uomo è una persona fantastica è un grande battista e dicci qualcosa su Simon beh Simon fare questo vedetto è stato più semplice perché ci conosciamo da 30 anni lui ogni volta che arrivi in Italia mi manda i biglietti per andare a trovare mi telefono io lo vedo abbiamo suonato insieme con la Tama a Francoforte figurati tu stiamo parlando di 35 anni fa quindi l'ho chiamato e lui ho detto sì sì benissimo lo facciamo quindi è stato molto free molto pignolo ovviamente perché sono tutti pignolissimi e quindi Simon era contento l'ha fatto con voi con veramente massima disponibilità ed era bellissimo e poi poi con Cody Wekel che non ci conoscevamo di persona fisicamente io l'ho contattato è stato molto disponibile chiaramente mi ha fatto una mezza radiografia una TAC una risonanza lui è molto esigente però devo dire conoscendolo molto bene noi qua ma anche perché anche perché sai due batterie sono difficili perché infatti non si fanno quasi mai tranne se non fai uno suona una cosa uno suona un'altra noi siccome da metà pezzo si suona insieme quindi lui ha detto ma tu sai il pezzo mi piace ma sai come come lo facciamo questo pezzo qua due batterie è un casino e mi fa sai come vorresti farlo sì lo so allora fallo prima tu mandami le partiture e lo facciamo quindi mi ha fatto quindi io ho mandato la mia batteria stereo lui chiaramente che ha fatto ha fatto una prova ci ha suonato sopra poi dopo due giorni mi ha chiamato sì sì lo posso fare va bene sì ma perché sai è un casino nel senso che se non non lo so allora Dave e Simon sono veramente macchine quindi o stiamo insieme o non suoni già Chambers è diverso è molto più toccare Chambers a Valerio è quello è il suo no è una bestia ma stai scherzando ma è un altro concetto capito loro sono proprio scientifici che è la loro grande forza che fanno è questo senti ma questa cosa Wagle io la vorrevo tanto allora adesso che facciamo faccio un esperimento ma lo chiamo proprio dedicato a loro che stanno qua ce l'ho il numero è quelli che stanno da casa è la prima volta che faccio il pezzo dal vivo chiaramente non ho il video perché se no è da un casino lo faccio con lui l'altra batteria che sentirete è lui puoi confermare che ho il numero di Dave quindi lo faccio posso chiamare guarda stiamo facendo questa cosa così scappa su lo faccio per la prima volta così ve lo dedico vai grande poi gli mando un messaggio veramente grazie a tutti grazie a tutti a presto 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 tutti i grandi della perlitoria ci hanno mandato uno strumento straordinario che è questo che avete sentito suonare disponibilissime sempre attenti grande strumento bellissimo suono visto che siamo dopo la fine mi tocca farti la domanda dei tre pistole già sapendo di sottopormi a una cosa l'ultimo colpo l'ultimo colpo scegliere l'angolo dei batteristi così faccio pure le costanze questa è una domanda che lo fanno tutti tutti rispondono costituzionalmente vanno da Mattarella dalla lettera perché io penso chi mi ha seguito sa che io non ho mai detto nessun nome ma non perché intanto io non ce l'ho il preferito i tips possono essere tutti preferiti ma questo lo dico proprio sono sincero quindi io mi metterai in difficoltà perché io come faccio a dire in un momento preferisco una cosa poi ne cambio un'altra poi mi piace che sento un batterio e faccio che è bellissimo poi un attimo dopo ne sento un altro quindi per me ti dovrei dire dei nomi i soliti noti prima è chiaro che secondo me io intanto intanto quando vedo uno suonare capisco come so quanto è complicato suonare e fare sto mestiere quindi veramente non ce l'ho i preferiti sono tutti i preferiti e ognuno ha una cosa cioè quindi non mi va di dire nessun nome perché comunque farei un torto a tutti quelli che suonano e che sono arrivati ad un certo livello e fanno delle cose perché poi l'importante è fare e suonare quindi per me io non ce l'ho i preferiti sono tutti dei batteristi e ogni volta che rimanga un sorpreso da uno poi dall'altro dipende dai contesti dalla musica che si suona dal momento non siamo delle macchine quindi veramente io rispetto quando mi arriva una cosa io anche i batteristi di oggi quelli diciamo questi nuovi nomi pazzeschi che ci sono tutti i batteristi straordinari io li seguo tutti poi mi faccio la mia idea ma con questo non vuol dire che uno è preferito e l'altro è una schifezza certo ok quindi per non fare i soliti nomi che poi fanno un po' tutti certo quindi non faccio nome e penso tutti i preferiti va bene va bene una bella risposta dai diciamo che per me è stato veramente uno degli appuntamenti più emozionanti grazie grazie ed è vero noi ci conosciamo da bambini ci conosciamo da bambini e io gli ho ricordato oggi una volta il primo ricordo che ho lui in ambito professionale è stato a Milano una fiera di Milano che eri con Grisby Music e suonavi dv e tosco pensate voi da quanto sei proprio la prestoria della prestoria hai visto ma hai detto tutti gli anni che c'ho va bene ma voglio dire anche se tu hai detto questa cosa assurda diciamo del prossimo pensionamento diciamo che poi va bene che non mi daranno che non ti daranno diciamo non poteranno e voglio ricordare a tutti quanti e comunque anche se tu stai a Brescia e sei ormai patrimonio dell'umanità batteristica troppo buona italiana e mondiale sei sempre un cuore di Napoli a questo proposito assolutamente il cielo di Napoli il cielo di Napoli ecco qua l'abbiamo vissuto e grazie mille e grazie mille a quelli che sono intervenuti a tutti grandi musicisti che sono di qua che non ho nominato sono tutti i grandi batteristi a trovarti i tuoi musicisti vedo colleghi storici e certo sono venuti ad omaggiarti e a seguire questa puntata che rimarrà nella storia e che troverete presto sul nostro canale YouTube da ascoltare con attenzione perché i buon Frenchi e Valerio diciamo per l'audio e per il video hanno fatto come al solito un lavoro pazzesco grazie anche Alessandro che l'ha compiuto grazie Alfredo e alla prossima